Ciao a tutti e bentornati in Cucina con Agnese Oggi prepareremo il piatto che io adoro di più in assoluto A salutare l'estate con i pomodorini datterini dell'orto di mio papà Prepareremo la pasta con il sugo shue shue Lo chiamo sempre così mia mamma perché gli ingredienti sono pochi Ma vi assicuro che questo piatto è strapieno di gusto Partendo dai pomodorini, servono i pomodorini datterini Quelli piccolini, belli polposi e pieni di gusto Qua ci sono 450 grammi e provengono direttamente dall'orto di mio papà Ci serviranno 30 di spaghetti, 2 spicchi di aglio, tantissimo basilico, sale e olio Se volete del pepe, io a fine ricetta aggiungerò pochissimo formaggio grattugiato Nella ricetta originale naturalmente non ci va Non è nella risa degli ingredienti, non è sulla tavola Se volete aggiungetelo anche voi Mettiamoci subito a cucinare Gli spaghetti cuoceranno in 13 minuti E neanche in un quarto d'ora saremo pronti per andare a tavola Andiamo ai fornelli Ho aggiunto nell'olio a freddo l'aglio che si è infuso con l'olio che è arrivato a temperatura E ora andiamo ad aggiungere i pomodori L'aglio non lo tolgo subito, lo toglierò alla fine La temperatura così alta farà caramellare bene i nostri pomodori E avranno un fapore dolce Buonissimo, non ve lo so neanche spiegare Aggiungiamo il basilico Pranto, mi raccomando Qualcuno la lasciamo alla fine La decorazione Qualche fogliolina Diamo una mescolata E facciamoli cuocere giusto il tempo Che cuoce la nostra pasta Non serve neanche coprire con il coperchio L'acqua nel frattempo sta bollendo Aggiungiamo un po' di sale Aggiungiamo i nostri spaghetti E lasciamoli cuocere per il tempo indicato sulla confezione Questi cuociono in 13 minuti Se volete ai pomodorini Potete aggiungere anche del pepe O se preferite, se vi piace Del peperoncino Ci vediamo dopo Ho scolato i nostri spaghetti Andiamo a versarli direttamente dentro Ai nostri pomodorini Ho tenuto a parte anche un po' di acqua di cottura della pasta L'aggiungo dentro Vado a dare una bella rimestata E poi non ci resta che impiattare Fate insaporire qualche minuto Io l'ho scolata Scusate, due minuti Prima di fine cottura Lascio insaporire E poi andiamo a tavola a mangiare Aggiungiamo un filo d'olio crudo E i nostri spaghetti Con il sugo shui shui Sono pronti per essere gustati Io ve lo dico Quelli di mia mamma Sono i migliori di tutti Io ci ho provato Spero tanto questa ricetta vi sia piaciuta Spero tanto la rifacciate anche voi Io corro a gustarmeli Buon appetito E ci vediamo domenica prossima Inviaci richieste e suggerimenti a Agnese Chiocciola Cucina con Agnese Oppure se vuoi Visita il sito www.cucinaconagnese.it E ci vediamo domenica prossima